Lunedì 28 novembre alle 20.45 al Teatro Verdi a Pordenone si terrà l'evento Pordenone 2002-2022, Nessuno si salva da solo. La serata vuole ricordare la grande alluvione che colpì la nostra città 20 anni fa attraverso le testimonianze delle persone soccorse e dei soccorritori, ma sarà anche l'occasione per comprendere con l'aiuto di esperti idrogeologici quali infrastrutture sono state realizzate da allora e quali sono le prospettive future. L'evento è stato presentato in comune dall'assessore all'ambiente Monica Cairoli, dal caporedattore del messaggero veneto Antonio Bacci, dal comandante dei vigili del fuoco Giovanni Greco, dal vice coordinatore della protezione civile regionale Gian Domenico Veronesi, dall'ingegner Nino Aprilis, responsabile della diga di Ravedis e dal dirigente del settore ambiente del comune di Pordenone Renato Villalta. Ci sono persone e storie che il tempo porta via e ci sono persone e storie che invece rimangono nel tempo. Le seconde abbiamo pensato come messaggero veneto e come comune di Pordenone che ha accolto questo progetto e ne siamo molto grati di ringraziare dopo 20 anni, a 20 anni dalla grande alluvione che chi vive a Pordenone sicuramente non ha dimenticato quella del 2002 e parliamo della protezione civile, dei vigili del fuoco, degli alpini, dell'esercito, delle persone cioè che si sono spese per salvare le altre persone, hanno messo le loro vite a rischio per proteggere quelle degli altri. Arriva dopo 20 anni per un evento che non abbiamo dimenticato. L'invito è per tutti, è una cosa aperta alla città. Il messaggero veneto è fiero di partecipare ma è una festa della città ed è la festa per dire grazie a queste donne e questi uomini e quindi 20 e 45 di lunedì 28 novembre al Teatro Verdi ci saranno video, foto dell'epoca, servizi del Tg, testimonianze, racconti, anche momenti più leggeri a sorpresa ma non posso svelare tutto. È un'occasione per dire grazie a queste persone e per me è un dovere, è un piacere, spero altrettanto per voi. Il tema del fiume è un tema molto sentito nella nostra città. Una delle cose base è sicuramente la costante cura e manutenzione per prevenire questi eventi. Dal 2002 si è fatto moltissimo ma bisogna continuare a fare perché appunto è materia viva non si può pensare che l'intervento finito non abbia più un proseguo perché si rischia anche di vanificare gli interventi fatti precedentemente. Un evento in particolare per ringraziare quanto in quelle giornate di emergenza partendo dai vigili del fuoco, la protezione civile, l'esercito, gli alpini hanno aiutato la nostra città a riemergere proprio dalle acque. Per cui un evento bello che già nel titolo a Nessuno si salva da solo fa comprendere quanto la sinergia tra tutti quanti, dai tecnici a chi opera nei momenti di emergenza, deve esserci per portare i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. La serata, organizzata dal Comune di Pordenone e dal Messaggero Veneto con il sostegno di Credi Agricole Friuladria, è ingresso gratuito e senza prenotazione. Per informazioni Grazie a tutti.